Ferrino Airsafe, come portare l'acqua al tuo corpo? Il Airsafe è equipato con due pezzi neri per rinforzare il tuo corpo e un pezzi grigio per rinforzare il tuo piede. Questo è il modo corretto per portare l'acqua. Il corretto per rinforzare l'acqua, con regolazione di back, per una sicurezza perfetta. Ficcate in questo modo. Poi hai il secondo corretto per rinforzare l'acqua, con la parte di rinforzare l'acqua. Hai la possibilità di regolare l'acqua. Questo corretto per rinforzare l'acqua. Questo corretto per rinforzare l'acqua. Questo corretto per rinforzare l'acqua. corretto per rinforzare l'acqua. Questo corretto per rinforzare l'acqua. Questo corretto per rinforzare l'acqua. corretto per rinforzare l'acqua. Poi puoi iniziare a rinforzare l'acqua. in questo modo. per rinforzare l'acqua. corretto per rinforzare l'acqua.